La notizia del decesso di tre militari avvenuto in relazione temporale con la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca ha suscitato senz'altro stupore e timori in molte persone, sia quelle che avevano già ricevuto in questi giorni la somministrazione dello stesso vaccino, sia in quelli che dovranno sottoposti alla stessa vaccinazione nei prossimi giorni. È bene ricordare che tutti i vaccini, prima di essere messi in commercio o comunque di essere utilizzati, subiscono dei severi processi di sperimentazione che devono essere documentati e le documentazioni relative poi sono bagliate dall'esame di organismi regolatori scientifici sia internazionali come l'EMA sia nazionali come l'AIFA e quindi diciamo provata e comprovata la loro efficacia e la loro inocuità. Certo, un incidente di percorso, un incidente di contaminazione può sempre accadere, è deprecabile, deprecabile senz'altro, però siamo uomini e possiamo sbagliare, ci può essere qualche fase di qualche evento che è stata sbagliata. Ciò non di meno occorre attendere che le indagini autoptiche promosse dalle autorità sanitarie e giudiziarie chiariscano le vere cause del decesso dei tre militari e mi auspico che i risultati di queste indagini siano pubblicizzati con la stessa enfasi con cui si è dato l'onore della cronaca a questi eventi. Vorrei ricordare in proposito che anche quattro anni fa qualche vaccino anti-influenzale fu ritenuto responsabile del decesso di alcune persone. I successivi accertamenti hanno smentito che fosse quella la causa del decesso delle persone morte. Quindi auspichiamo che nel momento in cui tutta la nazione attende il decollo della campagna vaccinale siano sgombrati questi dubbi dalla mente di tutti e che proprio la stessa vaccinazione e i nuovi vaccini che vengono anche validati in questi giorni come il Johnson e Johnson costituiscono un momento per risolvere questa crisi pandemica e dare fiducia a tutta la popolazione che l'unica arma potente che abbiamo per superare questo momento terribile per tutto il mondo è veramente il vaccino.